Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice io mi sono rallegrato quando mi dissero andiamo alla casa dell'Eterno. Salmo 84 dice oh quanto amabili sono le tue dimore o eterno degli eserciti. L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. So che alcuni di voi non potete venire in chiesa ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo, ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglio a Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore veniamo davanti a te in questo momento nel nome di Gesù. Signore vogliamo che tu vieni con la tua presenza e col tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito che tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che tu arrivi, che tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà della Spirito affinché possiamo compiere la tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo e questo lo domandiamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Io so che c'è un nome che tesoro e che nel cuore mi porta vita a pie. Preziosi gli è più che l'argento e l'oro e luce in me e pace in ogni bene. E c'è gioia a me e l'oro che pensa al dono. E lì mi fai di piena libertà. Del mio peccato ottene lui perdono. Solo in Gesù trova la verità. Se l'almo in tua vita è molta gioia e pace e fa sparire le nubi del dolore. Quando è lì c'è e mi tempesta tace, forza mi dà se sono senza vigor. C'è gioia a me, e pensa al dono, e in me fe, di piena libertà, del mio peccato, ottene lui perdono, solo in Gesù, solo alla verità. I troni re cadranno in quel giorno, sempre vivrà il nome di Gesù, nel cuo dell'uomo, fino in un suo ritorno, e senza fin, per sempre c'è lassù. C'è gioia a me, e a lo che pensa al dono, che lì mi fe, di piena libertà, del mio peccato, ottene lui perdono, solo in Gesù, solo alla verità. C'è gioia a me, e a lo che pensa al dono, che lì mi fe, di piena libertà, del mio peccato, ottene lui perdono, solo in Gesù, solo alla verità. Il libro della rivelazione di Gesù o Apocalisse L'autore di questo libro, che tra l'altro non si chiama Rivelazioni, al plurale, di Gesù, viene nominato all'inizio del libro. È stato scritto da un Giovanni, che potrebbe essere l'amato discepolo, autore dell'omonimo Vangelo e delle lettere di Giovanni, oppure un altro Giovanni. Forse un profeta messianico itinerante ebreo, che insegnava nella Chiesa Primitiva. Di qualunque Giovanni si tratti, egli chiarisce, sin dal paragrafo d'apertura, che tipo di libro ha scritto. Prima di tutto, lo chiama una rivelazione o Apocalisse. La parola greca è Apocalipsis, e si riferisce a un genere letterario molto familiare ai lettori di Giovanni, derivato dalle scritture ebraiche ed altri testi ebraici popolari. Il genere letterario apocalittico racconta le visioni e i sogni simbolici di un profeta, in cui è rivelata la prospettiva divina sulla storia e sugli eventi attuali, affinché il presente potesse essere interpretato alla luce del risultato finale della storia. Giovanni dice che quest'Apocalisse è una profezia, il che significa che si tratta della parola di Dio pronunciata per mezzo di un profeta al popolo di Dio, di solito per avvertirlo o consolarlo in momenti di crisi. Chiamando questo libro una profezia, Giovanni ci sta dicendo che si colloca nella tradizione dei profeti biblici e che sta portando il loro messaggio al punto culminante. Questa profezia apocalittica fu inviata a persone reali, che Giovanni conosceva. Il libro comincia e finisce come una lettera circolare inviata a sette chiese nell'antica provincia romana dell'Asia minore. Sette è un numero importante per Giovanni. È un simbolo di completezza, basato sui sette giorni del ciclo dello Shabbat nell'Antico Testamento. Giovanni ha intessuto il numero 7 in ogni parte del suo libro e con questa introduzione ci ha dato istruzioni chiare su come vuole che interpretiamo la sua opera. Le apocalissi ebraiche comunicavano il loro messaggio attraverso un simbolismo fatto di immagini e numeri. Non si tratta di un codice segreto profetico per conoscere la data della fine del mondo. Piuttosto, Giovanni usa costantemente questi simboli tratti dall'Antico Testamento e si aspetta che i suoi lettori vadano a scoprire il significato dei simboli, cercando i testi ai quali egli fa riferimento. Inoltre, il fatto che si tratta di una lettera significa che Giovanni sta concretamente affrontando la situazione di queste chiese del primo secolo. Nonostante questo libro abbia molto da dire ai cristiani delle generazioni successive, il suo significato deve essere innanzitutto ancorato al contesto storico dell'epoca, del luogo e dei lettori di Giovanni, il che ci porta alla prima sezione del libro, il messaggio di Gesù alle sette chiese. Giovanni era in esilio sull'isola di Patmos e lì ebbe una visione di Gesù risorto, magnificato come re del mondo, in piedi tra sette candelabri. Giovanni ci dice che si tratta di un simbolo delle sette chiese dell'Asia minore, adattato dal libro del profeta Zaccaria. Gesù comincia ad affrontare i problemi specifici di ciascuna chiesa. Alcune erano indifferenti a causa della loro ricchezza e opulenza. Altre erano moralmente corrutte. I loro membri continuavano a consumare pasti rituali e ad avere rapporti occasionali nei templi pagani. Ma in altre chiese i membri rimanevano fedeli a Gesù e subivano angherie e persino persecuzioni violente. Gesù avverte che le cose peggioreranno. Sulle chiese incombe una tale afflizione che le costringerà a scegliere tra il compromesso e la fedeltà. Ai tempi di Giovanni l'eccidio di cristiani da parte dell'imperatore romano Nerone era alle spalle e probabilmente le persecuzioni ai danni dei cristiani da parte dell'imperatore Domiziano stavano per iniziare. Dunque la tentazione era quella di negare Gesù, per evitare la persecuzione o semplicemente per unirsi allo spirito dell'epoca romana. Gesù li esorta ad essere fedeli, affinché possano vincere o letteralmente conquistare. Gesù promette una ricompensa a tutti i membri di queste chiese che otterranno delle conquiste. Ogni ricompensa viene tratta direttamente dalla visione finale del libro sul matrimonio tra cielo e terra. Questa sezione d'apertura stabilisce quindi la traccia principale che guiderà la trama di questo libro. Riuscirà il popolo di Gesù a resistere? Erediterà il nuovo mondo che Dio ha in serbo? Perché la fedeltà Gesù viene descritta come una conquista? Il resto del libro espone la risposta di Giovanni. Subito dopo, Giovanni ha una visione del trono celeste di Dio e lo descrive con immagini tratte da molti profeti dell'Antico Testamento. Dio è circondato da creature e anziani che rappresentano tutta la creazione e le nazioni umane. Rendono onore e lealtà all'unico vero creatore, Dio, che è santo, santo, santo. Nella mano di Dio si trova un rotolo chiuso con sette sigilli di cera. Esso simboleggia il messaggio dei profeti dell'Antico Testamento e il rotolo sigillato delle visioni di Daniele. Queste immagini si riferiscono al modo in cui il regno di Dio si manifesterà pienamente qui sulla terra, così come in cielo. Ma si scopre che nessuno è in grado di aprire il rotolo, finché Giovanni sente parlare di qualcuno che può farlo. È il leone della tribù di Giuda e la radice di Davide. È lui che può aprirlo. Queste sono classiche descrizioni provenienti dall'Antico Testamento e parlano di un re messianico che avrebbe stabilito il regno di Dio con la conquista militare. Giovanni sente tutto questo, ma quando si volta non vede un re leone aggressivo, bensì un agnello sacrificato e insanguinato che è lì, vivo, pronto ad aprire il rotolo. Il simbolo di Gesù come agnello sacrificato è di importanza cruciale per capire il libro. Giovanni dice che la promessa dell'Antico Testamento, del futuro regno vittorioso di Dio, fu inaugurata per mezzo del Messia crocifisso. Gesù sconfisse i suoi nemici morendo per loro come il vero agnello pasquale, affinché potessero essere eredenti. Grazie alla risurrezione, la morte di Gesù sulla croce non fu una sconfitta, bensì il suo insediamento sul trono fu il modo in cui sconfisse il male. La visione si conclude con l'agnello al fianco di colui che siede sul trono. E insieme vengono adorati come l'unico vero creatore e redentore, e a questo punto l'agnello sacrificato comincia ad aprire il rotolo. È un simbolo della sua autorità divina e della sua capacità di dirigere la storia verso la sua conclusione, il che ci porta alla sezione successiva del libro, i tre cicli di sette, sette sigilli, sette trombe e sette coppe. Ogni ciclo illustra la giustizia e il regno di Dio che si riverseranno qui sulla terra così come in cielo. Ora alcuni pensano che i tre gruppi di sette giudizi divini rappresentino letteralmente una sequenza lineare di eventi o già accaduti in passato, o che potrebbero accadere adesso o ancora, che accadranno in futuro al momento del ritorno di Gesù. Ma notate come Giovanni abbia intessuto insieme tutti questi gruppi di sette. Dunque le sette coppe finali provengono dalla settima tromba e dal settimo sigillo, e le sette trombe emergono dal settimo sigillo. Come delle matriosche, ogni settimo elemento contiene i successivi sette. Notate anche come le serie di sette culminino nel giudizio finale e come abbiano tutte delle conclusioni corrispondenti. Dunque è più probabile che Giovanni stia usando ciascun gruppo di sette per rappresentare, da tre prospettive diverse, lo stesso periodo di tempo. Quello tra la resurrezione e il ritorno futuro di Gesù, l'agnello sacrificato comincia ad aprire i primi quattro sigilli del rotolo e Giovanni vede quattro cavalieri, un'immagine tratta dal capitolo uno del libro di Zaccaria. Simboleggiano tempi di guerra, conquista, carestia e morte. In altre parole, una giornata tragicamente normale nella storia umana. Il quinto sigillo rappresenta i martiri cristiani davanti al trono celeste di Dio e il grido del loro sangue innocente si eleva davanti a Dio come il fumo dell'incenso dall'altare. Viene detto loro di riposare perché altri cristiani moriranno. Non ci viene spiegato il perché, ma ci viene detto che non durerà per sempre. Il sesto sigillo è la risposta definitiva di Dio al loro grido. Egli porta con sé il grande giorno del Signore, descritto nei libri di Isaia e Gioele. E il popolo della terra grida chi potrà resistere? Improvvisamente Giovanni interrompe l'azione, facendo una pausa per rispondere a quella domanda. Giovanni vede un angelo che indossa un anello con sigillo con cui imprime un marchio di protezione sui servi di Dio, oppressi da tutte queste difficoltà. Giovanni sente che i fedeli marchiati sono 144.000. È un censimento militare, come quello descritto nel capitolo 1 del Libro dei Numeri. Vengono contate 12.000 persone per ciascuna delle 12 tribù di Israele. Adesso, facciamo attenzione, Giovanni sente il numero di persone presenti in questo esercito, proprio come, poco prima, aveva sentito del leone conquistatore di Giuda. Ma in entrambi i casi, quello che vede quando si volta è il sorprendente compimento di quelle immagini militari in Gesù, l'agnello sacrificato. Vede quindi questo esercito messianico del regno di Dio composto da persone provenienti da tutte le nazioni che realizzano l'antica promessa di Dio ad Abramo. È questo esercito multietnico dell'agnello che può stare davanti a Dio, perché redento dal sangue dell'agnello. Ed ora sono loro che vengono esortati a conquistare, non uccidendo i loro nemici, ma soffrendo e rendendo testimonianza proprio come l'agnello. Dopo queste cose, viene rotto il settimo e ultimo sigillo. Prima che venga aperto il rotolo, squillano le sette trombe di allarme e viene preso il fuoco dall'altare dell'incenso, che simboleggia il grido dei martiri e viene gettato sulla terra, portando il giorno del Signore al suo compimento. Con le sette trombe, Giovanni fa un passo indietro e racconta nuovamente la storia, questa volta con immagini della storia dell'Esodo. Così i primi cinque squilli di tromba riproducono le piaghe mandate in Egitto. La sesta tromba libera i quattro cavalieri che erano usciti dai primi quattro sigilli. Poi Giovanni ci dice che nonostante tutte queste piaghe, le nazioni non si erano pentite, proprio come non si era pentito il faraone nella storia dell'Esodo. Sembra quindi che il solo giudizio di Dio non porti necessariamente le persone a pentirsi con umiltà davanti a lui. Giovanni interrompe nuovamente l'azione con un altro intermezzo. Un angelo porta il rotolo senza sigilli, che era stato aperto dall'agnello. E proprio come a Ezechiele, a Giovanni viene detto di mangiare il rotolo e poi di proclamarne il messaggio alle nazioni. Finalmente il rotolo dell'agnello viene aperto e scopriamo in che modo il regno di Dio verrà sulla terra. Il contenuto del rotolo viene descritto in due visioni simboliche. Prima Giovanni vede il Tempio di Dio e i martiri presso l'altare e gli viene detto di prendere delle misure e tenere i martiri separati. È un'immagine di protezione presa dal capitolo 2 del libro di Zaccaria. Ma i cortili esterni nella città sono esclusi e vengono calpestati dalle nazioni. Alcuni pensano che questo passaggio si riferisca letteralmente alla distruzione di Gerusalemme, che si verificò nel passato o che si verificherà in futuro. Ma è più probabile che Giovanni stia seguendo la tradizione di Gesù e degli Apostoli, i quali usarono il nuovo Tempio come simbolo del popolo del nuovo patto di Dio. In tal caso questa immagine rappresenterebbe come i seguaci di Gesù possano essere vittime di persecuzioni per mano delle nazioni. Una tale sconfitta esterna, però, non toglierà loro la vittoria per mezzo dell'agnello. Quest'idea viene sviluppata nella seconda visione del rotolo. Dio nomina due testimoni come rappresentanti profetici alle nazioni. E ancora una volta, alcune persone pensano che questo passaggio si riferisca letteralmente a due profeti, che appariranno in qualche momento futuro. Ma Giovanni li chiama candelabri, che è uno dei suoi chiari simboli per definire le chiese. È dunque più probabile che questa visione parli del ruolo profetico dei seguaci di Gesù, i quali devono raccogliere l'eredità di Mosè ed Elia ed esortare le nazioni e i governanti idolatri a rivolgersi all'unico vero Dio. A quel punto appare all'improvviso una bestia orrenda. Ricordiamo il capitolo 7 del libro di Daniele. La bestia conquista i testimoni e li uccide, ma Dio li riporta in vita e li vendica di fronte ai loro persecutori. Il risultato finale è che nel giorno del Signore molti abitanti delle nazioni finalmente si pentiranno e renderanno gloria al Dio creatore. Adesso fermiamoci. Riflettiamo sulla storia fino a questo punto. I giudizi d'avvertimento di Dio per mezzo dei sigilli e delle trombe non generarono pentimento tra le nazioni. Proprio come le piaghe dell'Esodo non fecero altro che indurire il cuore del Faraone, ma l'agnello ha conquistato i suoi nemici, amandoli e morendo per loro. Adesso il messaggio del rotolo dell'agnello rivela la missione del suo esercito, la Chiesa. Il regno di Dio sarà rivelato quando le nazioni vedranno la Chiesa imitare il sacrificio amorevole dell'agnello, non uccidendo i loro nemici, bensì morendo per loro. Sarà la misericordia di Dio dimostrata per mezzo dei seguaci di Gesù a condurre le nazioni al pentimento. Questa sorprendente dichiarazione è il messaggio del rotolo aperto che Giovanni ha collocato proprio nel cuore dell'intero libro. Poi si ode uno squillo dell'ultima tromba. Le nazioni saranno scosse mentre il regno di Dio si manifesterà sulla terra, così come in cielo. Adesso quindi sappiamo il modo in cui la Chiesa renderà testimonianza alle nazioni ed erediterà la nuova creazione. Ma chi era quella bestia terribile che ha iniziato una guerra contro il popolo di Dio? E come finirà tutta la storia? Giovanni ce lo dirà nella seconda parte del libro dell'Apocalisse. Quando ero solo, sono stanco nel mondo, quando non c'era l'amor. Tante persone vedi intorno a me, sentivo cantare così, sì, sì, sì. Camminerò, camminerò per la Tua strada, signor. Signor, dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a Te. Io non capivo, ma rimasso a sentire quando mi vede il Signor. Lui mi chiamava, chiamava anche me, ma mi ha risposto al senso, sì, sì, sì. Camminerò, camminerò per la Tua strada, signor. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a Te. Signor. Sigenerò Caminero, caminero, per la tua strada, Signor, dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te. Si, 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 caminero, caminero, per la tua strada, Signor, dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te. Ebrei, capitolo 10, verso 36, che dice Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Perseveranza vuol dire, abbiamo visto, raggiungere uno scopo, portare a termine un proposito, un piano, senza arrendersi davanti agli ostacoli che si incontrano sul cammino. È la capacità di resistere alle difficoltà e di saperle superare senza arrendersi. Vi ricordate, Gesù disse che avrà perseverato fino alla fine, sarà salvato. Abbiamo visto, in modo particolare, due ragioni per cui l'uomo è portato ad arrendersi, a mollare. La prima è che la nostra prospettiva, la prima ragione è che la nostra prospettiva è diversa da quella di Dio. Noi non riusciamo a vedere quello che invece Dio riesce a vedere. Noi vediamo gli ostacoli, vi ricordate il popolo che camminava intorno alla città di Gerico? Il popolo vedeva le mura, ma Dio vedeva la città in mano ad Israele. Dio vede le promesse già nelle tue mani. La seconda ragione, il secondo motivo per cui l'uomo è portato ad arrendersi davanti alle difficoltà è che nel processo non vediamo il progresso e quando noi continuiamo a girare sempre nello stesso posto e non vediamo mai i risultati, le cose non cambiano, la vita non cambia, l'ostacolo è sempre lì davanti a noi. E meditando proprio su come Israele conquistò Gerico, abbiamo visto che girò intorno a Gerico sette giorni, i primi sei giorni girando una volta sola, al giorno invece il settimo giorno girò sette volte e l'ultimo giro conquistò, le mura caddero e conquistò la città. Solo una parentesi sul numero sette, il significato del numero sette. Il numero sette è il numero di Dio, ma altresì vuol dire, indica anche un ciclo, un inizio e una fine. La settimana è fatta di sette giorni, Dio cominciò con la sua creazione il primo giorno e il settimo giorno si riposò. È il ciclo di una stagione della nostra vita particolare, è il ciclo della nostra vita qua su questa terra. E oggi vogliamo però, fratelli, approfondire non su che cosa ci porta ad arrendere, ma su cosa invece ci dà forza, ci sostiene per affrontare questo ciclo, per affrontare i processi che Dio ci mette davanti, per affrontare la nostra vita su questa terra. Perché un pensiero potrebbe sorgere nella nostra mente, fratello Giulio ho compreso perfettamente del perché a volte mi arrendo, ma io voglio capire, voglio sapere che cosa fare per non arrendermi, dove trovo le forze per resistere, come trovo la voglia di lottare se ogni volta mi ritrovo sempre ad affrontare le stesse difficoltà, lo stesso problema, dove trovo io la voglia di continuare se non riesco a superare quell'ostacolo ed ogni volta quell'ostacolo mi sembra sempre più grande, sempre più insuperabile. Ebbene, la mia preghiera è che quest'oggi possiamo essere incoraggiati da quello che ancora il Signore vuole darci questa mattina. E voglio leggere da Zaccaria, capitolo 4, dal verso 6. Zaccaria, capitolo 4, il libro di Zaccaria, capitolo 4, dal verso 6 al 10. E dice così la parola del Signore. Dice, Allora, egli mi rispose. E questa è la parola che il Signore rivolse a Zorobabele. L'angelo del Signore che sta parlando a Zaccaria per parlare e di rivolgere questa parola a Zorobabele. E gli dice un verso conosciutissimo, un verso che cantiamo nelle nostre chiese. Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Ripeto, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Chi sei tu, o grande montagna, davanti a Zorobabele, tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta su questa casa e le sue mani la termineranno. Voglio che prendiamo questo verso per noi. La promessa del Signore. Ciò che Dio ha cominciato nella nostra vita, Lui la porterà a termine. Se Lui ha cominciato un'opera nella tua vita, se Lui ha cominciato qualcosa attraverso la tua vita, Lui la porterà a termine. Perché questa parola è ancora per noi oggi. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Giusto? Per chi non conosce di chi stiamo parlando, del periodo in cui stiamo parlando, Israele era guidato, era governato dai suoi re, ma più passava il tempo e più Israele e Giude si allontanarono da Dio. Cominciarono a fare cose abominevoli, peccarono contro Dio. A causa del loro peccato, Dio li portò in cattività, in esilio in un paese straniero, in Babilonia. Nabucodonosor conquistò Gerusalemme e prese in cattività i giudei e li portò con sé in Babilonia. E per 70 anni restarono lì, in esilio, in terra straniera, lontano da Gerusalemme, lontano dal loro tempio, lontano dal Signore. Ma proprio lì, mentre erano lontano da Dio, Dio arriva, Dio risveglia questo nuovo re, Ciro, questo re persiano che invade Babilonia, conquista Babilonia e quando conquista Babilonia lui decide, fa un proclamo e invita chiunque dei giudei volesse ritornare nella sua patria e ricostruire Gerusalemme, poteva farlo. E allora vediamo che diversi gruppi cominciarono, con diverse ondate, i giudei cominciarono a ritornare in patria. E il primo gruppo, in mezzo al primo gruppo di giudei che rientrarono in Gerusalemme ci fu proprio Zorobabene. E quando arrivarono a Gerusalemme videro questa devastazione, tutto era distrutto. Case, edifici, e in modo particolare le mura di Gerusalemme e il Tempio di Giosaremme, la casa di Dio, dove Dio visitava il suo popolo. Il Tempio era distrutto, allora Dio chiama proprio Zorobabele a ricostruire il Tempio, la casa di Dio, il luogo dove Dio si incontrava con il suo popolo. Cominciò subito i lavori con entusiasmo, gioioso, felice, si fece un team e cominciò a ricostruire il Tempio, cominciò con l'altare del Signore e celebrarono Dio. Subito dopo mesero le fondamenta del Tempio e celebrarono il Signore, ma appena finirono di mettere le fondamenta del Tempio, ecco che subito due problemi arrivarono. Due problemi sopraggiunsero sulla vita di Zorobabele e su quello che lui stava facendo. Alcuni anziani iniziarono a criticare l'opera di Zorobabele dicendo che il Tempio che lui stava costruendo sarebbe stato più piccolo di quello che era precedente e cominciarono a scoraggiare Zorobabele. E il secondo problema invece furono alcuni nemici che si erano infiltrati in mezzo al popolo di Dio e fecero di tutto per mettere pressioni, in modo particolare pressioni politiche, mettere discordia tra lui e Ciro, il re Ciro. E tutto questo fece in modo che Zorobabele si scoraggiò. Cosa succede? A causa di questi problemi il lavoro si ferma. Si ferma. Non c'è più nessuno che lavora sul Tempio di Dio. La costruzione del Tempio si blocca per 16 anni, fratelli. Per 16 lunghi anni quel Tempio rimase incompleto. Per 16 lunghi anni immaginatevi Zorobabele che rientrò in Gerusalemme desideroso, voglioso di ricostruire la casa di Dio, di ricostruire Gerusalemme, desideroso di rivedere la gloria di Dio in mezzo al suo popolo, di vedere il suo popolo ritornare a quello che era prima e dopo poco tempo si scoraggia. Possiamo immaginare lo scoraggiamento di Zorobabele. Questa era la sua montagna che doveva scalare, che doveva attraversare. Era scoraggiato. Possiamo immaginare il suo dispiacere. La sua speranza nel vedere Gerusalemme rifiorire era così, volatilizzata. a causa di questi problemi. Possiamo immaginare quello che lui stava pensando di se stesso. Ho fallito. Sono venuto meno a quello che Dio mi ha chiesto di fare. Sono un incapace. Sono un codardo. Ho avuto paura. La paura mi ha conquistato. La paura mi ha sconfitto. Avrei dovuto avere fede in Dio invece di avere paura. e invece di essermi scoraggiato davanti a quei problemi. Immaginiamoci per 16 anni cosa girò per la testa di Zorobabele. Ogni volta che camminava per Gerusalemme, vedeva quella spianata, quelle fondamenta incomplete, ogni volta si ricordava che lui aveva fallito. Si era arreso. E credo che più passasse il tempo, più quella montagna che c'era davanti a lui, la montagna dello scoraggiamento cresceva e cresceva. Non posso farcela. Ormai è troppo tardi. Ormai Dio non può più aiutarmi. Non vuole più avere a che fare con me. Dio mi ha abbandonato. La voglia e l'entusiasmo di continuare sono passati. Gli anni sono passati. Non sono più forte come prima. Ora non so se c'è qualcuno in mezzo a noi che proprio si immedesima in Zorobabele oggi. Qualcuno che sta dicendo, o quello che tu stai dicendo, fratello Giulio, sembra la mia vita, sembra che tu stai parlando di me. Ho cominciato in maniera entusiasta a servire il Signore. Ho passato periodi stupendi nella mia vita. Ma ora sembra che sono sempre lì. Sembra che non riesco più a uscirne. Sembra quasi che Dio si è dimenticato di me. Mi sento un fallito. Sono venuto meno. Non riesco più a alzare le mie braccia al cielo. Se questo è quello che stai pensando oggi, della tua vita, e quanti ci stanno vedendo tramite il canale a casa e tramite YouTube, voglio che tu sappia che Dio, come ho detto la volta scorsa, Dio non aveva ancora finito con Zorobabele. E Dio non l'ha ancora finito con te. Se oggi tu sei qui non è un caso. Se oggi tu sei qui non è perché ti sei sentito stamattina e ha detto ciao. Andiamo in chiesa. Ma perché Dio ti ha voluto qua. E c'è una parola per te. E Dio ti sta dicendo io non ho ancora finito con te. Perché quello che io ho cominciato nella tua vita, io la porterò a termine. Dio non aveva ancora finito con Zorobabele al punto che non gli manda un profeta a parlargli. Gli ne manda due. In caso non avesse capito bene il primo. Gli ne manda due. Il primo è Geo. Il profeta prima di Zaccaria. E gli dice capitolo 1 verso 4. Parla a lui e parla tutto al popolo. Lo sprona. E che stai facendo Zorobabele? Che state facendo? Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno? Mentre questo tempio è in rovina? E a Geo capitolo 2. Ma ora si forte Zorobabele, si forte Zorobabele, si forte Giosuè figlio di Iosadac, sommo sacerdote, si forte popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro. Mettetevi al lavoro. Il tempio non è stato terminato. Io non ho finito con voi. Mettetevi al lavoro. Perché io sono con voi. Abbiamo cantato Emanuele, Emanuele, Dio con voi. Io sono con voi. Che Dio possa risvegliare ognuno di noi quest'oggi, possa scuotere la vita di quanti si sentono scoraggiati, afflitti, senza forze. Che Dio oggi possa scuotere con queste parole, con il suo amore. Prendiamo queste parole con l'amore di Dio. Muoviti, forza, alzati perché non ho ancora finito con te. E poi arriva Zaccaria che l'abbiamo letto. Gli mostra come da quel momento in poi lui avrebbe dovuto agire. A Geo gli dice forza, lo scuote, alzati, mettiti al lavoro. E Zaccaria gli dice come avrebbe dovuto lavorare. Come io e te possiamo continuare ad andare avanti senza renderci, senza mollare davanti alle difficoltà. Non importa quale essa sia la nostra chiamata. Che sia un pastore, un insegnante, una persona da fare, un leader, una mamma, un papà, un nonno. Non importa quale essa sia la nostra chiamata. O qualsiasi essa sia la stagione in cui ti stai trovando ora. Forse davanti a te oggi c'è una montagna insuperabile. Ti dico una cosa. Tu non puoi nulla contro quella montagna. Tu non puoi nulla contro quelle difficoltà. Tu non puoi nulla contro le prove, le tribolazioni che questo mondo ti offre. Perché Dio dice qualcosa di glorioso, di grande a Zorobabele. Dio smuove l'anima di Zorobabele e lo risveglia e gli fa capire una cosa. E credo fermamente che queste parole non siano soltanto delle belle parole che noi ripetiamo a memoria ogni tanto. Non sono solo delle belle parole che cantiamo ogni tanto, ma hanno una potenza che sono capaci di scuotere qualsiasi anima se le si mettono in pratica. Possono cambiare qualsiasi vita. Non importa quanto basso siamo caduti. Queste parole, se le facciamo nostre, se le mettiamo in pratica, possono cambiare ogni situazione. Possono trasformare qualsiasi vita, qualsiasi circostanza intorno a noi. Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Zorobabele, non è per potenza, non è per forza, ma è per me, è per la mia grazia, è per il mio amore, è per la mia potenza, è per la mia forza, è per lo spirito mio, dice il Signore. Il termine potenza di questo verso che troviamo è spesso tradotto come esercito, capacità o efficienza ed è associata alle risorse umane, alle forze umane. Si riferisce anche ai mezzi finanziari e può essere collegato anche alla ricchezza. È paragonata alla potenza di massa, come per esempio la potenza militare o economica di una nazione. Dio sta facendo comprendere che non è con i nostri mezzi, con le nostre risorse, con le nostre conoscenze, affidando la nostra vita anche sulle forze degli altri. Perché queste cose, proprio come con Zorobabele, possono venire meno nel momento dell'avversità, possono venire meno. Paolo diceva questo riguardo a queste cose, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io ho circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zero persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Cioè lui era il meglio. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Escoltate qua cosa dice. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Cioè tutte queste cose di cui lui si poteva vantare, di tutte queste sue risorse che erano con lui, lui le ritene spazzatura. Spazzatura all'eccellenza, paragonata all'eccellenza di Dio, all'eccellenza di Cristo. Mentre il termine forza implica una forza intenzionale. Io ho intenzione di sforzarmi. Una ferma determinazione, una risolutezza. Attenzione, tutte queste cose non è che sono cose che fanno male per la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di questo, ma non dobbiamo affidarci su questo. Dio usa queste cose per usarsi di noi e attraverso noi. Ma noi non ci dobbiamo affidare sulla nostra forza di volontà. Non ci dobbiamo affidare sul nostro impegno. A quante volte veniamo in chiesa? A quanti minuti spendiamo in preghiera? Non ci dobbiamo affidare sul nostro entusiasmo iniziale. Perché tutte queste cose, davanti alle prime ostilità, davanti ai primi problemi, verranno meno. Come sono venuti meno con Zoro Babele. Non per potenza, né per forza. Non per le proprie capacità, per le nostre risorse abbondanti, per la nostra grande determinazione, ma per lo spirito mio, dice il Signore. Noi possiamo avere tanti buoni propositi, anche per servire il Signore. Ma se Dio non è con noi, se Dio non è con noi, cadremo. Non ce la faremo. Perché saremo soli. Perché non ci saremmo affidati sul Signore, ma ci saremmo affidati sulle nostre forze, sulle nostre risorse. Che cosa vuol dire per lo spirito mio? Vuol dire farsi guidare. Vuol dire dipendere da Dio. Vuol dire arrendersi allo Spirito Santo. Vuol dire, Signore, fai tu. Signore, fai tu. Signore, non voglio più guidare io, non voglio più che altri guidano la mia vita, ma voglio che sia tu che ti siedi sul posto di guida della mia vita. Prendi la mia vita e portami là dove tu vuoi. Fai di me quello che tu vuoi. Signore, se ti è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà, Signore, sia fatta. E' come quando Paolo dice il vivere è Cristo, il morire è guadagno. E' come quando lui dice non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E' Cristo che guida la mia vita, lo Spirito di Dio che ha preso le redini della mia vita. Come ci guida lo Spirito Santo? Come ci guida? Innanzitutto lo Spirito Santo ci ricorda una cosa. Ci ricorda chi siamo. Ci ricorda la nostra identità in Cristo Gesù. Romani 8,16 dice lo Spirito stesso attesta insieme al nostro Spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito di Dio attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio. e questo cambia la nostra prospettiva. Già questo deve cambiare quello che noi vediamo. Ci sono difficoltà davanti a noi. C'è questa grande montagna ma lo Spirito Santo ci ricorda che noi siamo figli di Dio. Ci ricorda che il nostro padre è più grande di quella montagna, è più grande di quel problema. Ci ricorda che in ogni momento noi possiamo andare dal nostro padre e portare le nostre debolezze, portare le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Lo Spirito Santo ci guida anche attraverso la parola. Gesù prima di morire disse quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Una delle cose che possiamo fare quando siamo scoraggiati è andare alla parola di Dio e permettere allo Spirito Santo di parlarci quando leggiamo la parola di Dio. Quante volte, fratelli, è capitato di affrontare un periodo difficile della nostra vita, situazioni dove non trovevamo una risposta, una via d'uscita, ci siamo messi, abbiamo cominciato a leggere la parola di Dio, a meditare sulla parola di Dio e subito delle parole, dei versi sono come venuti fuori da quella pagina e hanno toccato il nostro cuore, hanno parlato la nostra vita. Ecco che lo Spirito Santo ha impresso quelle parole potenti nella nostra vita e grazie a quelle parole Dio ci ha dato la forza di andare avanti. Dio ci ha dato ancora una spinta, forza, sono con te. Lo Spirito Santo ci mette davanti le promesse della parola di Dio. E lo Spirito Santo ci guida anche attraverso la preghiera. Romani, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Fratelli, quando noi preghiamo qualcosa succede qualcosa cambia nella nostra vita quando noi diamo con fede davanti al Signore quando noi alla domenica mattina fratelli veniamo qui desiderosi di incontrare il Signore e cominciamo a lodare Dio e cominciamo a innalzare le nostre preghiere al Signore il Signore ascolta e il Signore risponde e quando il Signore ascolta e risponde alle nostre preghiere il Signore cambia la nostra vita. Noi ce ne usciamo da questo luogo che siamo trasformati noi siamo cambiati non tanto perché abbiamo passato una bella domenica assieme non tanto perché abbiamo cantato delle belle canzoni assieme ma perché lo Spirito di Dio era qui in mezzo a noi e lo Spirito di Dio ci ha visitato. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi che è stanco è scoraggiato è senza forze ha perso la passione la passione per Cristo sta venendo in chiesa perché è diventata un'abitudine e ogni mattina alla domenica mattina io vado perché devo andare. Forse c'è qualcuno questa mattina che deve decidere deve prendere una decisione se continuare a mettere la propria vita nelle sue mani nelle mani di altri o in quelle di colui che ha creato i cieli e la terra. O in quelle di colui che ci ha promesso e che si sarebbe preso cura di noi. Zoro Babele era schiavo delle sue paure dei suoi dubbi delle sue perplessità del suo scoraggiamento però il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Chissà se non c'è qualcuno qui che è schiavo di qualcosa che gli impedisce di andare avanti di qualcosa che gli impedisce di godere di gustare della gioia del Signore schiavo di pensieri negativi di paura di non farcela fisicamente finanziariamente perché perché i medici gli hanno dato una sentenza e quello scoraggiamento ti sta assalendo e non vedi via d'uscita schiavo di ansietà preoccupazioni schiavo di una dipendenza per 16 anni Zorobabele è stato schiavo del suo problema e ne lui e nessun altro è riuscito a liberarlo da questo ma di un giorno attraverso Ageo parlò a Zorobabele e gli disse io sono con voi io sono con voi il Signore risvegliò lo Spirito di Zorobabele figlio di Sealtier oggi il Signore dice io sono con te io non ho ancora finito con te non importa dove tu sei caduto non importa dove tu ti trovi in questo momento non importa se hai pensieri di arresa nella tua mente io sono con te e ti voglio rialzare soltanto smetti di affidarti nelle tue forze smetti di affidarti nelle tue risorse arrenditi alla mia presenza arrenditi alla mia presenza perché se tu farei questo ciò che vedrai intorno a te cambierà le circostanze cambieranno ma soprattutto ti renderei conto che quelle paure quelle ansietà quella montagna qualunque cosa essa potesse rappresentare nella tua vita all'improvviso svanirà non ostacolerà più il tuo cammino perché Dio la spianerà Dio la spianerà potremo attraversare l'ombra della valle della morte ma non temeremo male alcuno perché Dio è con noi potremmo affrontare le più grandi difficoltà della vita ma come Paolo possiamo dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica il nemico può accanirsi contro di noi ma se Dio è per noi chi sarà contro di noi quindi basta lamentarsi basta avere un atteggiamento da vittima basta opprimersi basta permettere allo scoraggiamento di prendersi soltanto un altro istante della nostra vita perché questo non è quello che Dio ha stabilito Dio ha stabilito che le mani di Zorobabele hanno cominciato questo lavoro e lo porteranno a termine Dio ha stabilito che lui ha cominciato un'opera nella tua vita e la porterà a compimento concludo fratelli oggi abbiamo visto non è che abbiamo visto qualcosa di nuovo non è che possiamo dire Giulio wow questa cosa non l'avevo mai sentita ne sono convinto però se ci fermiamo un attimo e riflettiamo su queste parole non per potenza né per forza ma per lo spirito mio se facciamo nostre queste parole e ubbidiamo queste parole queste parole faranno una grande differenza nella nostra vita se oggi in questo momento fai di te queste parole che il Signore non è per me non è per le mie risorse ma è soltanto per te è solo per la tua forza è solo per la tua potenza è solo per il tuo spirito tu andrei a casa questa mattina diverso da come sei venuto oggi il verso che abbiamo che abbiamo letto non ci parla soltanto di questa vita terrena sono parole che hanno un valore eterno sono parole che hanno un valore eterno sapete perché? perché tra l'uomo e Dio un giorno si è innalzata questa grande montagna chiamata peccato e questa grande montagna ha separato l'uomo da Dio l'uomo era stato creato per avere una meravigliosa relazione con Dio ma il peccato è subito emerso e ha separato l'uomo da Dio e nel corso degli anni e forse anche tu che ci stai ascoltando questa mattina hai fatto di tutto per cercare di superare questa montagna di cercare Dio di trovare Dio hai speso tutte le tue risorse economiche cercando di fare del bene credendo che con la tua moneta con i tuoi soldi avresti potuto far piacere a Dio e ristabilire la tua relazione con Dio hai fatto di tutto cercando di comportarti onestamente facendo opere di bene pensando che questo avrebbe comprato l'amore di Dio hai fatto parte sin dalla tua giovanità di una di una religione credendo che quella religione affidandoti a quella religione ti avrebbe portato a Dio ma non è per potenza non è per forza ma è per lo spirito mio dice Signore Dio ha stabilito una via che avrebbe spianato la montagna del peccato che ha spianato la montagna del peccato e chiunque può intraprendere quella via chiunque vuole desidera incontrare avere una relazione con Dio può intraprendere quella via e quella via è Cristo Gesù quella via è la croce io sono la via la verità è la vita nessuno può andare al Padre se non attraverso di me se non attraverso la croce c'era un'altra montagna in Gerusalemme che si chiamava Golgota e su quel Golgota Dio ha offerto il suo sacrificio Dio ha offerto il suo figlio e grazie al suo figlio noi possiamo andare al Padre questa mattina fratelli avanti vittoria sabrà con Cristo Gesù col buon Gesù torsto al nemico confito sarà oh gloria alleluia alleluia Gesù con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor con Gesù con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor fratelli allegri con noi giubiliamo in Cristo Gesù sempre Gesù nel suo il suo amore presto fratelli nel cielo saremo con Cristo Gesù con buon Gesù in eterno con Cristo potremo oh gloria alleluia Gesù con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor con Gesù siamo sempre vincito giubiliamo nel suo amor spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima prego che il Signore vi benedica arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.